Domani è una giornata importante perché vedremo, ognuno si assumerà le sue responsabilità e quindi vedremo intanto gli emendamenti che verranno presentati. Sulla base di questo capiremo quale sarà l'atteggiamento delle diverse forze politiche e quindi noi speriamo anche che finisca questo gioco delle parti, questo dibattito, tutto politicizzato. Abbiamo sempre detto che la questione chiave è la questione del Parlamento, è il luogo dove ci si confronta, vedremo quali saranno lì gli emendamenti presentati e come ho sempre detto noi dal confronto in Parlamento non ci tiriamo indietro assolutamente. Siamo convinti che il testo che è stato approvato alla Camera sia un ottimo testo e quindi noi spingeremo perché quel testo va davanti.